È sempre più necessario poter offrire risposte concrete ai cittadini e in modo particolare ai lavoratori alle prese con le difficoltà legate al mondo del lavoro in crisi. Questo è il significato dell'incontro che si è svolto stamane a Verona, una riunione che ha visto come protagonista il patronato della Will, che oggi ha presentato il bilancio sociale dell'attività svolta in tre città del nord Italia, come Verona, Torino e Trento, dove si è sperimentato e messo in pratica proposte innovative capaci di offrire migliori servizi ai cittadini. Questa iniziativa Verona ha scelta tra l'altro per presentare il bilancio sociale. Che cosa porta? Che cosa racconta? Racconta oltre appunto a un bilancio che è un dato economico di un'attività importante perché tenere sotto controllo quelli che sono i costi ma anche le entrate di un'attività che ripeto è gratuita di per sé e c'è un ristorno dello Stato perché lo Stato su questo non fa fronte a un servizio che invece è sempre più necessario dare ai cittadini, anche perché sono sempre di più le pratiche e il numero delle pratiche da fare, non tanto in termini numerici quanto le tipologie di pratiche di assistenza che noi facciamo. Noi sul territorio oggi a Verona abbiamo una situazione per certi versi drammatica perché c'è una disoccupazione altissima, c'è una povertà che sta diffondendosi a macchia d'olio, poi possiamo far finta che non ci sia ma questo è un dato ed è importante conoscere com'è questa fotografia della città perché così anche noi come sindacato siamo in grado di estendere sulla rete territoriale i nostri servizi, questo è fondamentale, riuscire a dare dei servizi sul territorio perché è la rete che fa sì che poi miglioriamo anche noi nelle nostre performance, poi è vero che è un termine aziendalista ma noi dobbiamo farlo funzionare per essere credibili perché così noi siamo la Will sul territorio.